Eccoli delle gabbie, i protagonisti della trista del Cusini. E Tradizional Cic, in vantaggio a centropista via Garibaldi, davanti a Elettro Treno, Dragdemore, Chiara West, Bettolle, Vittori Laure, Claude, Tradizional Cic, Only Uno Mi a centropista, con più all'esterno Scat Cirio. E in leggero vantaggio lungo la corda, Dagdemore, davanti a Bettolle, Elettro Treno, Rosendal, Vittori Laure a centropista, con più all'esterno. E in vantaggio Rosendal, attaccato a centropista da Vittori Laure, passa Vittori Laure, davanti a Rosendal, Only Utopia e Tradizional Cic. Grazie. Grazie. Grazie.